Ben ritrovati a tutti, oggi vi parlerò secondo la mia scienza e coscienza dal mio punto di vista sulla situazione attuale del mercato assicurativo InsurTech, sulle grandi opportunità che stiamo vivendo calate in un contesto di crisi internazionale importante, dettata da un lato dalle vicende conseguenti al Covid che probabilmente non è una questione ancora chiusa e dai grandi rischi di conflitto, di estensione del conflitto dall'Ucraina verso l'Europa e il rischio quindi di un conflitto globale. Quindi grandi sfide ci attendono, grandi opportunità dall'altra parte. È il momento veramente di fare sistema, di diventare insieme intermediari e compagnie agenti del cambiamento. Il nostro mercato sta cambiando in modo significativo, nuovi rischi sono all'orizzonte, vecchi rischi stanno evolvendo, quindi situazioni come quelle conflittuali, come rischi sociali che ci sembravano cose, questioni di altri tempi e momenti invece li ritroviamo nella nostra quotidianità e a breve ci troveremo a dover affrontare la questione ambientale, i rischi di calamità naturali, la siccità, il mercato del lavoro, grandi complessità ma anche grandi opportunità di distinguerci e di dare il nostro contributo al sistema paese e alla collettività. Insurtech sicuramente stanno crescendo in Italia, ci sono dei casi di successo, dei casi veramente interessanti, la prossima quotazione di Yolo, l'entrata in modo importante di un gruppo come WeFox in Italia, Insurance Arena, le enormi opportunità del mercato dei rischi cyber che sta interpretando per esempio in modo molto interessante Cyber Angels. Tutte queste grandi situazioni ed elementi devono essere messe assieme dal mio punto di vista, secondo una ritrovata capacità di fare sistema fra gli attori, mettendo al centro la cultura assicurativa, sia al centro del sistema sia al di fuori. È importante la scolarità del sistema, italiano per quanto riguarda i temi dei rischi assicurativi, quindi una nuova consapevolezza da parte dei cittadini, futuri clienti e da parte nostra del nostro grande potenziale. Bisogna rimettere assieme l'elemento tecnologico che ci dà delle possibilità enormi insieme alle caratteristiche proprie dell'ambiente assicurativo che sono l'empatia, l'esperienza, la comprensione tecnica e professionale. Grandi opportunità ci aspettano ma dobbiamo coglierle. Sicuramente l'attenzione all'ambiente è stato un trend ed è un tema fondamentale di questi anni ma ancora di più è rimettere al centro l'uomo. Human Innovability. Questa definizione di Oscar De Montigny mi trova molto concorda e rimettere al centro l'uomo e quindi l'uomo con i propri valori e dare un'anima a tutte le iniziative, anche assicurative, che interpreteremo insieme. L'uomo al centro, tecnologia intorno per fare sistema, distinguerci e dare il nostro contributo in una fase globale e italiana così delicata. Superinflazione, grandi rischi, trasporti per esempio a livello globale, ci sono enormi cambiamenti che hanno sempre comunque degli impatti assicurativi e dove gli assicuratori e l'insurtech possono incidere. Un mercato che sta evolvendo in modo completamente diverso dal passato. Probabilmente l'offerta non sarà più un'offerta flat ma andrà a distinguersi fra due tipologie di clienti principali, quelli nativi digitali, i più giovani, coloro che hanno esigenze ridotte che possono essere colmate attraverso un'app o attraverso una risposta immediata, semplice e tecnologica delle proprie esigenze. Dall'altra parte coloro che hanno esigenze complesse poiché hanno dei patrimoni importanti, degli asset significativi e hanno una necessità enorme di consulenza, quella propria degli intermediari assicurativi italiani che si distinguono in Europa e nel mondo per la propria capacità e professionalità. Quindi insieme a questa distinzione probabilmente un'offerta di prodotti, un sistema proprio di offerta globale di servizi e prodotti che cambierà, evolverà in modo significativo. Quindi, riassumo, uomo al centro, tecnologia, InsurTech, grande opportunità per fare sistema in Italia nel settore delle assicurazioni. Un saluto a tutti e a presto. Ciao!